20 cantanti americani, 4 docenti e 15 musicisti, ad Arezzo sarà così un'estate con la grande opera. Dal 19 al 22 luglio è in programma la prima edizione di Opera Seme Festival, quattro giorni dedicati all'opera, con un festival inedito legato alla voce e al bel canto. Abbiamo voluto aprire questo festival con degli artisti che stanno seguendo dei percorsi professionalizzanti e che vengono da circa 15 università americane e presenteranno queste opere complete, quindi il pubblico potrà assistere all'opera completa di Suor Angelica di Puccini come di Giulio Cesare di Endel, un cast anche seguito da professionisti del mondo operistico, da Mario Cassi, da Eva May, ma avremo anche degli esponenti americani come Blighty Geyser del Metropolitan Opera di New York che sarà qua per una masterclass, il nostro Gianni Santucci che ha accolto appunto di essere presente come coreografo e farà una masterclass aperta al pubblico e Mario Cassi che è tra gli insegnanti di Opera Seme. Opera Seme Festival nasce dall'incontro tra l'Italia e gli Stati Uniti con l'obiettivo di aprirsi sempre più a cantanti informazione e insegnanti europei ed internazionali per offrire forme di spettacolo innovative che guardino anche al passato e alla grande tradizione dell'opera lirica italiana. La cosa più bella è portare in città di grandi talenti, in questo caso poi americani, che varcano l'oceano, stanno qui con noi un mese, vivono ad Arezzo, non ultimo spendono ad Arezzo, questa è una cosa che secondo me anche l'economia dovrebbe valutare, ma soprattutto vogliono imparare la nostra cultura e ragazzi questa è la cosa più emozionante.